Senta, lei è padre da ieri, gratulazioni, i congedi di paternità in realtà sono stati agevolati un po' da tutti i governi, però poi vengono usati poco, perché secondo lei adesso questo fatto? Perché le donne hanno sulle spalle la maternità, questo è un fatto oggettivo e secondo me bisognerebbe fare di più per le donne in maternità, nel senso che... È la prima figlia? Sì, è la prima figlia. Senta, lei adesso ha un incarico importante e di responsabilità, però onestamente vorrebbe essere qui là, è vero o no? Guardi, ieri quando sono andato via avevo il cuore... Anche un leghista ha un cuore? No, avevo il cuore, un altro che... No, ieri avevo il cuore in frantumi, sono stato tre giorni in ospedale, da quando mia moglie è entrata, sono andato via ieri sera... Ha assistito al parto? Assolutamente sì, ho assistito al parto e domani mattina ritorno su perché voglio portarle Cosa ha provato? Eh beh, è una cosa indescrivibile. Quante gioia... Indescrivibile. Consiglia di assistere al parto quando è possibile, quando è... Sì, assolutamente sì. Quindi anche i leghisti avete un cuore, non siete solo duri e puri. Ma i leghisti hanno il cuore, adesso non voglio parlare del mio caso, ma certo che in generale non parlo di me perché... Aiuta sua moglie in casa? Più grande degli altri. Aiuterà sua moglie in casa? È sempre l'aiuto, lo sempre aiuta. Pallollini, cose così, le farà, si tirerà dietro? Ho già cominciato, no? Bravissimo.